Il Teramo in K a Caserta nel primo KO del girone di ritorno. Alpinto finisce 2-0 per i Falchetti con i Biancorossi che chiudono in 9 uomini per l'espulsione di Vittorini e Piacentini. Ilari ritrova una maglia da titolare nel posto in mediana di Viero salendo poi in fase di possesso le spalle di Pinzauti. Trasciani è invece l'under con cui Paci fa minutaggio con Diachite che finisce in panchina. Il primo tempo si gioca a viso aperto. Al quinto Piacentini pasticcia in uscita. Cuppone viene servito sulla corsa da rosso ma tu per tu con l'estremo Biancorosso è provvidenziale Lewandowski ad indovinare l'angolo e respingere. Il Teramo si fa vedere prima con una conclusione al nono di Arrigoni e poi con quella al dodicesimo di Bombaggi. La casertana si fa preferire in possesso ma non è precisa negli ultimi 20 metri. Trasciani invece al ventiquattresimo sfiora la rete dopo aver iniziato l'azione con un pallonetto che finisce alto non di molto. Al ventisesimo Bombaggi prova a sorprendere Avella calciando alto direttamente da punizione. Cinque minuti dopo è rosso a provarci dalla distanza non trovando però la porta. Al trentaseisimo Avella è fondamentale nell'uscita su Pinzauti servito in aria da Costa Ferrera. La gara per i Biancorossi però cambia pochi istanti dopo. Vittorini entra su Izzillo, il direttore di gara non ha dubbi ed estrae il secondo giallo per il terzino che lascia così i suoi indici uomini. E nel finale il Teramo ringrazia anche Cuppone, forse sorpreso di trovarsi tutto da solo in aria a colpire un cross di Aziosmanovic. La ripresa inizia sotto una bufera di neve e con Costa Ferrera che scende in difesa per prendere il posto di Vittorini. Proprio il portoghese al quarto si rifugia da Lewandowski in retropassaggio ma Cuppone capisce tutto e porta avanti la casertana. Diachite prende il suo posto in campo qualche minuto dopo con Aziosmanovic al provarci al ventesimo per i padroni di casa. Un minuto dopo Bombaggi impegna Avella da calcio di punizione. Biligea è invece la mossa per l'attacco al posto di Pinzauti e dal ventinovesimo l'attaccante trova il muro di casa a disinnescare un'occasione interessante. Arrigoni ci prova al 33esimo dalla distanza mentre al 37esimo è il palo destro di Lewandowski a tremare dopo il tiro di Zillo. Qualche istante dopo il Teramo protesta. Chiere Matengo va giù in aria. Il contatto è dubbio ma il direttore di gara lascia proseguire non ravvisando gli estremi per la massima punizione. Subito dopo Piacentini entra in scivolata su Matese e rimedia il rosso diretto lasciando i suoi in nove uomini. L'ultima occasione del Teramo è in una punizione di Arrigoni che trova prima la barriera e poi l'estremo di casa. La rete di Turchetta in pieno recupero certifica la sconfitta del Teramo che mercoledì tornerà in campo al Bonolis per ospitare il Potenza e cercare di tornare al successo tra le mure amiche.